A prescindere da ogni decisione la Serie D rischia seriamente di perdere metà delle squadre partecipanti il prossimo anno. Nel Gionei il Sant'Omaso che è in lotta per la salvezza intende capire cosa accadrà, c'è il Ragusa che ha tirato il rimimbarca ed il Marsala che ha deciso di mandare tutti i calciatori al momento a casa. Il Savoia secondo in classifica vuole tornare in campo ma il tecnico parlato ha sottolineato le grosse difficoltà a completare questa stagione. In questa fase chi è attivo più che mai è il Palermo capolista, infatti Rinaldo Sagramola amministratore delegato dei siciliani pensa anche ai tifosi. Qualora la decisione delle leghe dovesse essere quella di non far riprendere i campionati o di farli ripartire a porte chiuse il club è pronto a rimborsare i propri supporters, del resto la clausola relativa agli abbonati è presente proprio nella tessera sottoscritta di inizio anno. Nel frattempo il club siciliano ha acquistato 25 ciclette per permettere ai calciatori di allenarsi ancora meglio in casa. Fatto sta che i vertici dell'AD vorrebbero riprendere l'attività agonistica già in questa stagione. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà la linea che avrà vinto.